... Eh lo so, ti vedo fuori, Berta è quella che possono stare fuori Va bene, andiamo a riprendere Ok Ah, mi vedo pure a me Oh, perché non mi vedevo, quindi non riuscivo a capire se ero inquadrata nello schermo della webcam o meno Bene, allora, quindi questa struttura vi dicevo che andrà ovviamente a interagire su, e quello che esattamente avviene noi quando facciamo riflessioni in avanti E dove vediamo a livello del bacino, questa tendenza al bacino quindi a partire in... Allora, vabbè, lo sapete no cosa fa il bacino quando noi andiamo in flessione Tendenzialmente il bacino comunque quando si arrotonda tutto e anche quando siete seduti, se voi andate a arrotondare il vostro... La vostra colonna, il vostro tronco, sentite la direzione che va a effettuare il vostro bacino, che quindi ruota... In questa direzione, stando in piedi ovviamente noi ritroveremo quando abbiamo questo eccesso, quindi di chiusura di questa struttura, eccesso di tensione... Avremo quindi uno sbilanciamento del peso del tronco posteriormente Allora, questo è i birri, quello che si fa aspirare e dicevo i gatti sono i unici felici di questa situazione Che ormai non le abbandoniamo mai più Allora, lui è tutto contento anzi di partecipare, devo dire Allora, io direi di passare per arrivare già più nel... diciamo più nel fulcro del nostro argomento Allora, qua dove ritroviamo il nostro diaframma, su quindi questa situazione di arrotondamento del collo-testa-dorso Allora, vi ricordate il disegno che abbiamo visto prima, quando abbiamo visto il disegno del movimento del diaframma Che scende nella fase ispiratoria? Ok? E dove praticamente... e vi ricordate quindi questa parte possiore del diaframma La direzione della freccia, la punta della freccia che andava quindi in questa direzione Quando praticamente la respirazione addominale non è, tra virgolette come si chiama nello yoga, controllata Cioè quindi quando i trasversi addominali nell'inspiro Non hanno la possibilità di respingere indietro e verso l'alto Tutta la struttura a partire dalla testa Che cosa andrà a succedere? Che invece il mio diaframma, invece di tra virgolette fare sollevare tutto Quindi dove questa freccia dovrebbe andare verso l'alto In questo caso questa freccia va verso il basso Che cosa vuol dire? Che il mio diaframma in questo tipo di situazione e posizione Non trova niente che andrà a contrastare l'eccessiva discesa del centro frenico Perché anche lo spazio addominale stesso I trasversi addominali non riescono a creare questo invece movimento indietro e in alto Ricordatevi che l'inspiro è in alto posteriormente L'espiro è in avanti anteriormente Cioè in discesa anteriormente Come linea di direzione In queste situazioni di arrotolamento Anche se ci provate anche da seduti Inspirate e andate a sentire proprio Che questa parte qua della colonna lombare Invece di essere salire decompressa verso l'alto Che cosa gli succede? Qualcuno mi risponde? Non abbia t'ha paura Io sono buona Si espande all'indietro Cioè che cosa si crea? Allora noi normalmente No no aspetta che così spiego anche Perché a livello lombare normalmente abbiamo una lordosi Noi abbiamo visto che quando inspiriamo Questa lordosi si deve trasformare in una Diciamo verticalizzazione In decompressione verso l'alto In questo caso Quando io mi arrotolò E inspiro profondamente Che cosa percepite? Cosa accade sulla colonna lombare? Allora l'hai detto giusto Vai indietro Ma cerchi di precisare un po' di più A parte che non so chi ha parlato Ah da Napoli Quindi bravo 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 E sulla colonna lombare Che cosa gli succede? Viene aspirata tra virgolette verso l'alto Viene respinta verso il basso Non solo Ma dall'ordosi Diventa addirittura cifosi Ok? Se voi andate Forte a spingere Sentite che Entra addirittura in cifosi Ok? E dove quindi Questa freccia arancione Vi dà la direzione Quindi di quello che accade Nella fase Ispiratoria Quando il tronco è arrotolato E quindi Ovviamente lì Su questo disegno Lo fanno vedere In rapporto A una tipologia posturale Di una persona Che sta così In maniera Permanente Com'è? E La parte anteriore Mediana Quindi è La struttura Che noi Che andiamo Diciamo adesso A dettagliare Identificare Per non sempre mettere La parte anteriore Mediana Mettono AM Ok? E quindi Tutta questa zona Anteriore Mediana Dove poi Vedremo Qua il collo E come c'è anche L'anno scorso Abbiamo fatto A livello Delle gambe E dei piedi Ma che andremo A ritrovare Anche ovviamente Di nuovo La struttura Gambe e piedi In rapporto A questa Catena Familiare Anteriore Mediana Il rapporto Al perineo E il bacino Ovviamente Però Oggi Non abbiamo Ovviamente Tempo di vedere Il tutto Allora Quando io Vado a Inspirare Sento che Quindi Addirittura Non solo La mia colonna Lombare Accentua Maggiormente Una cifosi E' contento La zona lombare In cifosi No? Perché Non è Ovviamente Il suo massimo Non solo Oltretutto E' una spinta Respiratoria Che va Verso Il basso Tutto Quello Tutte le forze Che vanno Verso Il basso Sulle Nostre Strutture Articolari Tendenzialmente Che cosa Fanno Tendono a Schiacciarle Allora Mi direte Ma perché Ci sono Se hanno Diciamo Danno Queste Problematiche Ci sono Perché Comunque Noi dobbiamo Dobbiamo avere Qualcosa Che ci Tiene Ben Ancorato A terra E quindi Questa È sicuramente Una struttura Che ci Permette Di Rimanere Su La nostra Terra Ed è Anzi Una delle Strutture Più Importante Perché Senza La quale Se io L'abbiamo Già Visto Lo vediamo Sempre Nelle nostre Pratiche Se noi Non abbiamo Una base Di appoggio Come facciamo All'inizio Di ogni Esercizio Se io Non attivo Questo senso Dell'appoggio Non posso Riuscire A sviluppare Correttamente Tutte Le altre Forze Quindi È la nostra Struttura Primordiale Questa Di cui Stiamo Parlando E E Noi Dobbiamo Riconoscere Anche se Ovviamente Quando diventa Eccessiva Mi schiaccia Eccessivamente A terra Ok Allora A livello Lombare Quindi ci sarà Questo Schiacciamento Eccessivo Verso il basso Addirittura In cifosi Ovviamente Si accentua Quando voi Infatti Ispirate Stando Rotolato Che cosa Succede Che C'ho La percezione Che qualcosa L'ho messo In funzione A registrarlo E poi c'è Tutto Vabbè Poi ogni volta Poi esorce Ecco Quello che mi voleva Dio Allora Quando Ispiro La percezione È che Il Mio torace Il mio sterno Appunto Non si Va A espandere Ma addirittura Entra in dentro Ok Provateci Sentite Come vi si Buca Ulteriormente E va Verso il basso Lo sterno Invece Di Sollevarsi E di Andare Leggermente In avanti Inspiro Sento Che scende E va In dentro Non è bello L'avete Percepito È più Ispirato Che cosa Succede Che il centro Frenico C'è questa Parte Superiore Della cupola Del mio Diaframma Che è rappresentata Questa parte Superiore In verde Mentre La parte Periferica Elastica E rappresentata In rosso Questa cupola Quindi tendenzialmente Scende eccessivamente Essendo chiuso Lo spazio Dello stomaco Ovviamente Andrà a gonfiarsi La pancia Sotto l'ombelico E Sulla parte alta Del mio Torace Scendendo Eccessivamente La cupola Del mio Diaframma Vi ricordate Le frecce Le grosse frecce Che andavano Qua in alto Sulla parte Dorsale E cervicale La sacca Endotoracica Ovviamente Scendendo eccessivamente La base Mi andrà A tirare Ancora più In avanti E in giù Questa parte Qua Alta Del mio Tronco E del mio Collo Come Anche Quello che Voi sentite Sullo sterno Che entra In dentro E sempre Questa sacca Endotoracica Che è Attaccata Qua Sulla cupola Del diaframma E che Scendendo Eccessivamente Mi Addirittura Attira In dentro Lo sterno Sto poveraccio Il nostro Respiro Dove va a finire Questo respiro Andrà a finire Per molti Lateralmente Provate a flettervi Un po' In avanti Inspirate Profondamente Per molti Non per tutti Per molti Sentite Che ci sarà L'allargamento Laterale Qua Del torace Cioè Del diaframma Percepito Se qualcuno Non riesce A sentirlo Ditemelo Ok E dove Vedete Allora Su questo Disegno Questa Sarebbe Tra virgolette Il nostro Diaframma Quindi Quando E Ordinario E normale Quando Ci andiamo Invece A rotolare Che cosa Succede Al nostro Diaframma Allora Questa Ovviamente La parte Posteriore Dove ci sono Le vertebre Vediamo Che Posteriormente Sulla Nostra Schiena Tra virgolette Ci sarà Un allargamento Inspiratorio Perché Da qualche Parte Devo Poter Inspirare Quindi Quando Prima Dicevamo Sì Il I muscoli I retti Addominali Sono ovviamente Espiratori Nel senso Che mi fanno Chiudere La parte Anteriore Del mio Torace E quindi Mi vanno A richiudere Qua Però Chiaramente Quando vado a Fare yoga E mi Atteggio Quindi In questo Arrotolamento E quindi Ci continuo A respirare Non solo Ma Cerco anche Di respirarci Come Facciamo Nello yoga In maniera Quindi Lenta Quindi In maniera Lunga Fare dei Respiri Appunto Belli Soddisfacenti Nutrienti Che cosa Avverà Quindi In questa Posizione Al nostro Diaframma Che quindi Il diaframma Va Posteriormente A Ampliarsi Arretrando Con tutta La gabbia Toracica E con La colonna Sentitelo Se avete Difficoltà Percepire Poggiateci Una mano Sentite Come si Allarga Nell'inspiro E si Richiude Nell'espiro Portando Ovviamente Siccome Si allarga Posteriormente Si trascinasse Anche Le vertebre Lombari Chiaro Allora Ovviamente Quindi Sul davanti L'abbiamo Già percepito Quando io Vado a Inspirare In questa Posizione Lo sterno Mi Rientra Indietro E In Giù Vecchie Che toglie Il suono Per favore Sentiamo I rumori E dove Quindi Vedete Come in realtà In questi Atteggiamenti Lo spazio Tra lo sterno E le vertebre Dorsali Si riduce Anche molto Io mi ricordo Che quell'estate Scorso Vedi Sulla spiaggia Un uomo Abbastanza Giovane Aveva avuto Suri 30 anni Insomma In circa Ma Vederlo di profilo Era Da spavento Secondo me Non aveva più di 5-10 cm Tra lo sterno E le vertebre Posteriore E allora E' chiaro che era anche magro Come persona Ma Come atteggiamento Posturale Quindi non perché faceva Momentanamente Una pinza Una flessione in avanti Come atteggiamento Posturale Aveva Quindi Si ha questo raccocciamento Di addominale Che tirano Anche Troppo in giù Lo sterno E Tirando anche Eccessivamente Posteriormente Il diaframma Lo sterno Totalmente Bucato E lì Le vedrete Queste persone Queste tipologie Posturali Perché Spesso lo sterno E' proprio deformato C'è proprio il buco Qua Oltre a essere Anche ovviamente Spesso Se andate a toccare Alcune persone Qua Subito Sentono dolori Perché è chiaro Che questo tiraggio Costante Che c'è Qua Sull'osso Dello sterno Può diventare Anche doloroso Ok Provateci Andate a sentire A premere Più o meno forte A sentire Se c'è una depressione Anche lì Se c'è una depressione Il vostro torace E' in questa Tipologia posturale No Non ho messo L'aereo Sul cellulare Ok Allora Sì Stavamo su questo disegno Allora vi dice Ovviamente Quando io vado a fare Posizione Di flessione In avanti Andrò a Inspirare Un pochino Posteriormente Davanti Praticamente Niente E andrò A Inspirare Anche permettendo L'allargamento Quindi Laterale Inferiore Delle mie costole Perché in alto Le costole Hanno poca Mobilità Ok A posto Fino qua Passiamo a questo Successivo Di disegno Nessuno ha domande Su questo Dimmi Sì Non lo so Io Più che Ho messo Mute I partecipanti Mute All Eh Siete 82 Chiudo Chiudo Eh sì Io sento Poi un rumore Di fondo Da qualche parte Eh Sto cercando Di capire Qua da me E il silenzio Totale No no Da me No da me C'è il silenzio Ma comunque Mi sentite E l'ho già fatto Chi c'è l'audio Allora Antoni Laura Mute Vabbè A parte te Che mi stai parlando Eh Ah Vedi Eh Eh Eppure Eh Non vedo altri Io Io sento Poi un cane Che non è da me E non Eh no L'ho tolta L'ho tolta E vabbè Non vedo altro Ok Comunque Sembra che sia andato Allora Eh Su questo disegno Se vi è chiaro Quindi Questa prima parte Andiamo a vedere Anche un altro aspetto Importante Su questa struttura posturale E anche sulla Deformazione Della nostra colonna Qua in alto E della deformazione Quindi anche Della parte bassa Della nostra colonna Oltre che l'irrigidimento Anche il blocco Proprio del Nostro diaframma stesso Allora Eh Questa struttura Che vedete qua In questo Tubo qua Arancione L'esofago Cioè Mi direte Non vorrei che ci sia Un'interferenza Eh Fai io togli Allora Quindi mi direte L'esofago Che c'entra Con La respirazione Che l'esofago E laddove Io ingoio Il cibo E quindi Non c'entra niente A livello respiratorio Allora L'esofago Lo andremo anche A ritrovare Quando andremo A vedere La struttura Appunto A livello Della gola E della bocca Fondamentale Anche per la corretta Attivazione Appunto Della nostra testa Perché Ovviamente Tutto il discorso Dell'attivazione Ispiratoria Dell'elevazione Della testa Deve partire Da questo punto Proprio della gola Dove Ritroviamo Anche ovviamente Quindi questo Lungo tubo L'esofago Allora L'abbiamo già Descritto In altre occasioni Ricordo L'esofago È comunque Una struttura Muscolare Elastica Sia di fibre Longitudinale Sia di fibre Circolare Le circolare Servono A far scendere Il cibo Mentre quelle Longitudinale Servono Dal momento In cui L'esofago Attraversa Il diaframma A poter Accompagnare La mobilità Quindi Del Costante Movimento Del diaframma Che fa Quindi Su e giù Quindi L'esofago Che lo attraversa Essendo Elastico Andrà A Stirarsi Rilasciarsi Si stira Si rilascia Insieme a Questa mobilità Del nostro Diaframma Io addirittura Sento Un ritorno Della mia voce No ma Adesso è passato Allora Ovviamente L'esofago Quindi attraversa Il nostro Diaframma E va a finire Quindi Poi Allo stomaco In alto Spesso Noi non abbiamo Percezione Dove arriva Il nostro Diaframma Cioè nel senso Sì Diaframma L'esofago Spesso Cioè Il Chiara dice Vabbè Arriva qua In fondo Della bocca Dove Quando ingoio Il cibo Entra nell'esofago Ed è vero Però in realtà Il nostro Esofago Attraverso I tessuti Qua Della parte Superiore Quindi Della Faringe Doveva essere Va a finire Direttamente Quindi al fondo Del palato Che Rappresenta La Proprio La base Del nostro Cranio Come se L'esofago Fosse Proprio Appeso Quindi Io metto Le dita Qua Perché siamo Più o meno A quest'altezza Fosse Appeso Al nostro Cranio Allora E' chiaro Che se La mia testa E' molto Deformata In avanti Oppure Anche Vero Se L'esofago Per esempio Essendo Un tessuto Normalmente Muscolare Ovviamente Muscolatura E' liscia Quindi Non è che Dice Adesso Allungo Il mio Esofago Adesso Voglio Raccorciarlo Lo fa Secondo Necessità Allora E' chiaro Che Essendo Una struttura Muscolare Liscia Secondo La Stimulazione O meno Che riceve Queste Fibre Muscolare Tenderanno A diventare Più o meno Corte E rigide Se non subiscono Mai Stimulazione Di allungamento E rilasciamento Diventano Delle strutture Rigide Corte E anche Direi Debole E quando L'esofago Può diventare Molto corto Soprattutto Se poi Il mio Diaframma E' troppo Sceso In giù Come avviene Proprio In questa Tipologia Posturale O come avviene Quando Sempre Noi Nello yoga Andiamo a fare Le flessioni In avanti Che cosa Succederà Che L'esofago Tendenzialmente Andrà Il diaframma Scendendo Molto in giù Andrà Ulteriormente Quindi A tirare A schiacciare La mia testa Verso Il basso Obbligando Tutta la parte Quindi Alta Della mia Colonna A Entrare Ancora più In cifosi Allora Noi Nello yoga Ci divertiamo A fare queste cose Nel senso Che Impariamo A Sapere Utilizzare Il potenziale Al massimo Di tutti Gli atteggiamenti Posturali Chiaro? Perché Ogni atteggiamento Posturali Ha i suoi Lati Positivi Le sue Qualità I suoi Pregi Io più La capacità Quindi Di entrare In questa Dimensione Tra virgolette Di arrotolarmi Su me Stesso E più Ho la capacità Di trovare Questo senso Grosso Senso A parte Di affettività E questo Non guasta Me lo prendo Da me Non sempre Lo possiamo ricevere Almeno Cerchiamocelo Proprio Da noi stessi Significa Anche L'autostima Volersi bene A noi stessi Fondarsi Su noi stessi Sono tutti aspetti Che Hanno bisogno Proprio Delle qualità Di questa struttura A terra Significa Lo stare Sicuro Significa Lo stare Calmo Significa Lo stare Tranquillo E non di meno Significa anche Poter dormire Perché è anche Una struttura Che Facendoci Proprio Arrotolare Su noi stessi Ci permette Proprio Di In realtà Distoglierci Dal Resto Del mondo Proprio Dal momento In cui andiamo A dormire Un'optimino Un'optimino Buono Allora Sì Allora Quando questa tipologia Diventa Come si dice Rigida Cioè Diventa Vuol dire Che è entrato In eccesso Vuol dire Che si Rigidita Vuol dire Che funziona Male E quindi Vuol dire Che Le qualità Diventano Difetto Ok Cioè Non ha più Le qualità C'ha solo Tra virgolette I difetti Qualunque struttura Posturale Che diventa Eccessiva Si dice Si dice Che si pietrifica Praticamente Praticamente Quindi Vuol dire Che è una persona Che non ha più La possibilità Di usare Le caratteristiche Di quella struttura Posturale Perché Una struttura posturale Non può essere Isolata Dalle altre Noi quello che andiamo a vedere Diciamo nel nostro studio Adesso le studiamo Diciamo Uno alla volta Per imparare A conoscerle Ma In realtà Non è una cosa Che di per sé Corretta Perché Le andiamo Poi a studiare In relazione Uno con l'altra E quando Una diventa Eccessiva E non permette Più Un corretto Equilibrio Un gioco Bilanciato Tra l'una E l'altra Nessuna Può più Esprimere Quello che In realtà Anche interiormente A livello emotivo A livello Del funzionamento Della mente A livello anche Della vitalità Anche organica Metabolica Nessuna Non può più Interagire Correttamente E quindi Una persona Pietrificata In quella situazione Potrebbe proprio Avere difficoltà A dormire Tenete presente Che la struttura Che Con la quale Abbiamo fatto Tutta la nostra vita Passata Nella pancia Della mamma Dove eramo Nel paradiso Dove tutto Era Assolutamente Perfetto Eramo Nella totalità Dell'universo E credo che Una persona Quando è pietrificata In quella situazione Non si sente La totalità Dell'universo E quando dormiamo La notte Noi Ritorniamo In questa totalità Dell'universo Nel sonno Senza sogni Nel sonno profondo E per dormire E per dormire Noi ci dobbiamo Atteggiare Cioè In realtà Questa struttura Che è anche la struttura Del rilassamento Del riposo Che permette La rigenerazione Dell'appoggio Noi quando dormiamo Scegliamo Una posizione Dove possiamo essere Al massimo Dell'appoggio Cioè Significa Attivare Non solo Perché mi sono Arrotolata Su di me Che è anche La posizione Appunto Fetale Che è anche La posizione Che una volta nati Abbiamo continuato Comunque Ad assumere E che dovremmo Continuare a far Assumere Ai nostri bebè Perché proprio Vivono In quella struttura Interiore Psichica Cioè Dove si devono Sentire protetti Si devono Sentire sicuri Si devono sentire Il nutrimento Devono sentire Il calore E più sono Avvolti Fisicamente E più Internamente Interiormente Si sentono Quindi Nella loro giusta Condizione Del momento Noi è la sera Che ci dobbiamo Avvolgere Nelle coperte Avvolgere Nella nostra posizione Appoggiare Ma se Io mi Alzo la mattina Così E non riesco A Come si dice Srotolare Disavolgere Vuol dire Che è diventata Una situazione Pietrificata E vuol dire Che quindi Tutti quegli Elementi Che appartengono A quello Non possono più Quindi Attivarsi Quindi tutte le qualità Che appartengono A quello Le qualità interiore Non possono più Manifestarsi Ok Allora Posto Allora Il nostro esofago Qua E vedete Che l'esofago Si attacca Attraverso Delle fibre Vedete Qua Su Le Prime vertebre Dorsali E Ma È libero Dal collo Perché così Io anche se Faccio la posizione Della candela Posso ingoiare La saliva Per fortuna Nostra Non è condizionato Dal collo La funzionalità La funzionalità Dell'esofago Mentre È attaccato Qua Al nostro collo È un esofago Irritato Infiammato Corto Che cosa Può andare a fare Perdendo la sua Elasticità Longitudinale Mi andrà A Tirare Questa sommità Qua Del mio dorso Questo nel caso In cui C'è appunto Un problema Qua vediamo Tutti Riuniti Nel caso In cui C'è un problema A livello Del nostro Diaframma Troppo sceso Posteriormente In giù Questo Mi andrà A favorire La cifosi Qua E spesso Nel caso Appunto Di pietrificazione Di questa situazione Sono in tanti Sono in tanti Ti salutano tutto Ne ho messi muti Sono tanti Sono tanti E quindi Spesso Queste cifosi Che trovate Anche Queste cifosi Che ogni tanto Trovate anche I vostri allievi E dove Quindi Si tenta Da dietro Di farvi Tirare In realtà Ci sono diversi Elementi Sul quale Bisogna Intervenire Ovviamente Sulla ristrutturazione Del diaframma Su L'alentamento Come vedremo Nei prossimi Disegni A livello Della gola Perché lì Ci sono Anche grossi Irrigidimenti Prima di andare A cercare Di tirare Da dietro Ovviamente Sì sì Lulù Ovviamente Andremo Anche a interagire Su queste strutture Anteriori Che abbiamo visto Quindi Gran pettorale Retti addominale Perché Anche loro Tendono A tirare Allora Ok Allora Gatto Spostati un po' Perché non voglio Che mi fai saltare Quel collegamento Sì ma anche Ah non sto Ecco bravo E no Lo fa lo stesso E non capisco Perché prima Non lo faceva Vabbè dai Prima Io ci ho passato Una giornata A cercare Di scoprire Tutti questi Misteri Tecnologici Questo mi mancava Adesso non voglio Perdere tempo A cercare Di rimediarlo Perché sta registrando Questo è il cellulare Che mi registra E allo stesso momento Registro lo schermo Di quello Ah forse Ho capito E qui No perché Questo sto registrando Tramite QuickTime E no No Sì Perché Zoom Non legge Zoom non legge Il cellulare E Zoom Sto registrando L'altra parte Dello schermo No vabbè Dai Lasciamo stare No no È una cosa Quando Ti ho detto Ci abbiamo studiato Una giornata In terra Quindi Anzi Sono abbastanza contenta Che le cose funzionino Allora Quindi Ok Allora Ritornando al nostro esofago Chiaramente Quindi Quando il mio diaframma Scende eccessivamente Ci sarà Un tiraggio Su queste vertebre Qua Le prime vertebre dorsale Che andranno Accentuare Ancora di più La nostra cifosi Allora Dicevo E' chiaro Che quando Noi troviamo Una persona Pietrificata In questa situazione Che ritroviamo Spesso per esempio Nelle persone anziane Cioè la tendenza Della persona anziana E vedete come Poi si dice Si rimbambisce Si ritorna A una condizione primaria Come nei primi mesi di vita Cioè dove quindi Però Dove nei primi mesi di vita Infatti ritorna Alla domanda Di chi non so Mi aveva fatto prima Nei primi mesi di vita C'è L'elasticità C'è L'aspetto vitale C'è L'elasticità Respiratoria Nell'anziano Questi elementi Tendono invece A diventare Sempre più Pietrificati E rigidi Sempre meno vitalità Sempre più rigido Sempre più rigida La respirazione E quindi che cosa Significa Che Ritorniamo Verso un aspetto Diciamo Di rimbambimento Dell'invecchiamento Ma Dove Nell'anziano Manca Cioè dove Assume L'effetto Difetto Cioè dove L'anziano Comincia a sentirsi Insicuro Dove L'anziano Comincia a Perder equilibrio Dove L'anziano Comincia A avere difficoltà A dormire Infatti Uno dei problemi Dell'anziano Spesso E dormire Troppe Poche ore Difficoltà A digerire E così via Perché Lui si trova In quella situazione Ma in Condizione Di pietrificazione E quindi Vi dicevo E' chiaro Che lì Tocherà Ripartire Da tutta Una condizione Di Ristrutturazione A livello Del diaframma Oltre che Di alentamento Ovviamente Delle strutture Anteriore Del tronco E Prima di andare A voler Tirare Dietro Ovviamente Ristrutturando Anche interiormente In quella Persona Tutta la nozione Appunto Di riposo Perché comunque Nell'anziano A volte Dimostra Anche una necessità Di riposo Che magari Non riesce più A realizzare Correttamente Ok Allora Sul nostro Diaframma Quindi Posteriormente Abbiamo visto Che c'è quindi Un arretramento E una discesa Della nostra Colonna lombare Allora Vedete qua davanti Questo è un po' più Conplicato Da interpretare Cosa è? È Il nostro Diaframma Visto di profilo Ok Sì Ok Allora Questo è il davanti Del diaframma Questo è il dietro Perché ovviamente È la parte più Ampia Più lunga Del nostro diaframma La cupola Quindi questo È il rosso No Perché mi sei Dotto un doppio freccio Se qualcuno Sa come La posso togliere Me lo dice Sono contento E la parte rossa Qua davanti Quindi le fibre Più corte e anteriore Le fibre Posteriore Più lunghe Niente Quindi queste qua Ok In mezzo alla parte verde Devono rimanere Le fibre Del muscolo Del diaframma Verticale Ok Cosa fanno qua Le fibre anteriore Del muscolo Del mio diaframma Diventano Orizzontale Allora Lo so Lo so Perché per qualcuno Sto parlando Un po' Ebreo Abbiate pazienza Volevo far notare Questo particolare Visto che Diciamo Noi L'abbiamo Analizzato Molto Insieme Quindi Rendono Orizzontale La parte Qua Anteriore Del mio Diaframma Andando A Allargare Lateralmente Eccessivamente Davanti Le mie Cossole E Quella Puntina Che vedete Qua Allora Io Riusci a Togliere Sta freccia Nessuno Sa come Tolgo Sta doppia Freccia Vabbè Allora E Questa Puntina Delle Cossole Che Si Allargano Lateralmente E Lo stesso Discorso Che Abbiamo Visto Su Questo Disegno Ok E Dove Quindi In realtà Questo Allargamento Laterale Del Mio Diaframma Cioè Delle Mie Costole Avviene Perché Il Diaframma Qua Non Avrà Più Le Fibre Verticale Per Poter Sollevare L'insieme Della Gabbia Toracica Ma Queste Fibre Diventano Orizzontale Perdendo La Capacità Di Sollevare Il Torace Ricordate Che Abbiamo Visto Quindi Questo Meccanismo Insieme Ci Siete Almeno Tutti Quelli Da Scuola Di Yoga Di Milano Io La Posturale Sempre Intendo Gli Altri Abbastanza Avete Domanda Su Questo Vado Vado Ah No No Allora Mi sa che Quindi Abbiamo visto Un po' A livello Del Torace Diaframma Che cosa Accade Quindi Apro Un altro Gruppo Di foto Allora Oui Mesogiorno Apro Un altro Gruppo Di foto Collo Allora Devo Vi Metto A posto Ok Sengono Disco Un po' E Rimetto Quick Time Ok Allora No Voglio Anteprima Ok Allora La Nostra Bocca Allora Noi Abbiamo visto Quindi Queste due Grosse Strutture Gran Pettorale E a livello E a livello Quindi Di reti Addominali Che vanno Quindi a portare L'arrotondamento E cosa Cosa accade E cosa accade Sul nostro Diaframma Questa struttura Di avvolgimento Di avvolgimento Di avvolgimento Poi a proseguire Che non possiamo Ignorare Ovviamente Le nostre Anche E gambe Quando parliamo Di bacino Allora Una piccola parentesi Per Stefania Di Luca Non so se ci sei Perché nel corso Della settimana Mi ha mandato Un whatsapp Una mail Mi ricordo Disperata Io Nutazione Questa è la risata Di Stefania Nutazione Contro Nutazione Non ci capisco Più niente Allora In realtà Sapete che Io Quando l'anno scorso Abbiamo parlato Di anche Bacino Vi ho detto In realtà Noi andremo A vedere Questo Diciamo Queste spiegazioni Di che cos'è La nutazione La contronutazione Perché in realtà È un gioco Tra anche E osso sacro Abbastanza Comunque Complessa E Difatti Stefania Ha provato A capirci qualcosa Ha detto No Adesso proprio Non capisco Più niente Perché è molto Molto complessa In effetti E infatti Io avevo sempre detto Prima Andiamo a vedere Osso sacro E perineo E poi dopo Andiamo a mettere Insieme A lei Anche Per finalmente Riuscire a capire Questo meccanismo Di nutazione E contronutazione A livello Del bacino Allora Solo Per Stefania E tutti quelli Interessati Ma Sono degli argomenti Che vi ho già Indicati Ma intanto Così a livello Percettivo Nei vostri esercizi Ci andate A riflettere Allora Che cosa Il nostro bacino Poi arriviamo Alla nostra testa Ma così Intanto Metto di qua Che non c'è Il microfono La forma Del vostro bacino Allora Questa punta Qua Del vostro bacino Andate a Sentirvela Che sta qua Nonno gatto Spostati Che sta qua La sentite Questa punta Qua Ok No no Eh lo so Io ancora Non mi abituo Che In realtà Non mi potete Però diciamo Lascia un po' di tempo Se qualcuno Non se la sente Mi dice No Non so dove sta Quindi questa puntina qua Perché questa Perché è facile Sentirla Perché fa un angolo E quindi È un punto Di riferimento Che noi Andremo A percepire Allora Appoggiate il Medio Sopra Anche se siete seduti Che siete in piedi Non ha importanza Che siete allungati Uguale Andate A far Ruotare la vostra gamba Verso la vostra coscia Verso l'interno Dove va a finire La vostra puntina Ecco A me mi è finita qua Dove ho L'anulare Ok Rimetto dritta E adesso addirittura La gamba è aperta esternamente La puntina È ritornata più Verso L'interno Quando ruoto la gamba Verso L'interno La puntina Si allarga Per tutti Quando ruoto La gamba Verso L'esterno Cosa fa la puntina Tende a Restringersi Ok Quindi questo vuol dire Che le mie anche A secondo Quindi i miei femori A secondo Se girano All'interno O se girano All'esterno Vanno A Mobilizzare La Queste osse Si chiamano le osse iliache Le osse del bacino Andranno a mobilizzare Quando ruota verso l'esterno Mi fa richiudere Questa puntina qua in alto Quando ruota all'interno Me la fa Aprire Ok Stringiamo il perineo Allora Dita sulle vostre puntine Stringete il perineo Cosa fanno le puntine E lì So cattiva Stringete Rilasciate Si muovono Si muovono Queste puntine E vi lascio Tempo di poi Allora Non so in che posizione Vi trovate Insomma Cercate Di avere una posizione Abbastanza neutra Anche da disteso A terra Però E' meglio Se il bacino è verticale Anche in piedi Perché Comunque Un po' più Di mobilità In rapporto Allo stare Sdraiato a terra E quindi Questa parte Qua si apre Allora Il nostro bacino Da sotto Ok Quindi Il mio perineo Qua sotto Quando io stringo Il perineo Che cosa fa? Tende a Avvicinare Qua La parte inferiore Del bacino E a far Allargare Questa parte superiore Rilascio il perineo Si richiude Stringo il perineo Si allargano Lateralmente Nel piano Nel piano Diciamo Frontale Allora Adesso Lascerò A Stefania Tutto il tempo Chi è che mi ha spostato La telecamera Quella lì Che bravi Che siete osservatori Dunque Si Stava con il nostro bacino Ok E quindi Dicevo adesso In realtà La nutazione Contro nutazione Sarà Un Combinazione Tra Questa Intra Extra Rotazione Delle anche E La chiusura Tra virgolette Del bacino Che mi agisce E questo lo andremo a vedere Nel nostro prossimo incontro Quindi attraverso La contrazione Del perineo Che potrà agire Quindi In questo senso Quindi restringendo Lateralmente Il sotto del bacino E allargandoli sopra Ma dove Allora Questo qualcuno Ha anche detto La chiusura Del perineo Mi potrà anche Siccome lavora Anche longitudinalmente Quindi tra Il pube E l'osso sacro La contrazione Del perineo Mi potrebbe Anche far fare Questo E quindi La nutazione Contro nutazione E un misto Tra Mobilità Delle anche Che agisce Sull'osso Iliaco Del bacino E La Diciamo Lo spazio Dell'osso sacro In rapporto Al bacino Dove anche i nostri retti Addominali Potranno Anche lì Influenzare Quindi Questo gioco Di nutazione Contro nutazione Allora adesso Stefania capisci Perché Ti sei persa Anche perché Quando andremo A vedere Quello Dovremo Vedere Come i muscoli Extrarotatori Dell'anca Che sono Molto numerosi Quando fletto A un certo punto La gamba Possono diventare Intrarotatori Del femore Quindi Ti lascio cercare O vi lascio cercare Così la prossima volta Saprete già tutto Tutto Avendo percepito Ma non cercate Su video O cose varie Perché a volte Vi mettono fuori Binario Allora Ritorniamo Alla nostra bocca Allora La nostra bocca Quindi Dove Noi abbiamo qua Praticamente Posteriormente Il nostro esofago Dove Vedete che rimane Libero Della colonna Cervicale A questo punto Si attacca Sulle vertebre Cervicali E dorsale E questo qua Rappresentato In arancione L'esofago La lingua Ha un grosso Muscolo Noi conosciamo Solo Questa puntina Qua Della lingua Quella che Tiriamo fuori In realtà Solo questa parte La lingua Ha un grossissimo Muscolo Che prende Quindi Tutto il fondo Inferiore Della nostra bocca Fino qua Nel Proprio nel fondo Della nostra bocca Non immaginiamo Nello spessore Della nostra lingua Così importante E quindi a livello Percettivo Cominciò a sentire Che lì In realtà Tutto lo spazio Qua Da dove finiscono Da dove finisce Qua la mia Trachea Dove ho l'osso Iroideo Da qua In su È tutta lingua Tutto questo spazio In lingua E dove la lingua Quindi lascia Un piccolo spazio Per ingoiare Il cibo Il cibo Che quindi Da sotto Va a finire Dietro Mentre l'aria No Perché mi è ritornato Questo L'aria Entra dalle narice Va dietro E riparte In avanti Aria E il cibo Si incrociano Ci hanno fatto così E a volte Quell'incrocio Può ovviamente Creare dei problemi Perché il cibo Si dimentica Che deve Deviare dietro E se ne va In avanti Nella trachea Allora Il nostro esofago In realtà Non è Qua Il vostro fondo Della bocca E quindi Diciamo Qua Questa parte L'esofago Non è separato Su questo punto Dalle cavità Tra virgolette Nasale Dal retronaso L'aria Entra Va nel fondo Dietro Nel naso La parte Questa Diciamo Ossera Del palato La parte Molle Del palato E l'esofago Praticamente Si ricongiunge Direttamente Come tessuto Non c'è Separazione A tutta La mucosi Posseiore Del naso Che Si Direttamente Va a Tappezzare La parete Inferiore Quindi Della scatola Cranica E quindi Dove Praticamente Il nostro esofago Come abbiamo visto Sui designi Precedenti Praticamente Arriva Si incolla Si attacca Qua in alto Sulla base Del nostro cranio Allora La nostra Laringe Qua davanti E la La trachea Cioè la laringe E l'inizio Della trachea Che è una zona Quindi Estremamente Importante Questa cosetta Nera Qua che vedete E ve l'ho già Fatto sentire Più volte Negli esercizi E l'osso Ioideo Che si trova Qua in alto Qua sotto Che sentite duro E una cartilagine Che si trova Qua davanti La vedremo Su un altro disegno Che serve A proteggere La tiroide L'osso Ioideo E qua su Almeno Quelli che vedo Mettete lì Il dito Ed è facile Percepirlo Lo sapete Perché basta Ingoiare L'osso Ioideo Si muove Su e giù Per andare A chiudere Quindi Il passaggio Della trachea Si va proprio A sigillare Il passaggio Della trachea In modo tale Che la saliva Che è in goio Passa Da sotto Davanti A dietro Questo passa Invece l'aria Da sopra Dietro Ritorna in avanti Allora Il nostro Osso Ioideo Questo coso qua Che va a chiudere Qua in azzurro Vedete L'epiglotide Allora Al gruppo degli allievi Di Yoga Postural Di Milano Stamattina Presto Vi ho mandato Tramite mail Tutti questi disegni Così Le potete rivedere Diciamo in formato Grande Se non l'avete visto Potete ovviamente Tranquillamente Scaricarveli Ok Fino qua Quindi avete presente Come siamo fatto Nella bocca È molto importante Perché nello yoga Oltre che nel posturale Noi usiamo una tecnica Che si chiama Jalandhara Bandha Ed è importante Capire come è strutturato Questo spazio qua Nella gola Per effettivamente Interagire correttamente Sull'allungamento Anche in alto Della colonna Sulla giusta Direi attivazione Proprio a livello Fisiologico Che spesso Il Jalandhara Bandha Viene fatto Comprimendo Come andremo a vedere Sulle immagini successive Vado? Nessuna domanda? Canto si te caucci Allora qua Ritroviamo un disegno Oltre a tutta questa struttura Quindi della bocca Lo so io i dei Che è praticamente Molto importante Perché è il punto di passaggio Tra tutta la struttura Della bocca E la struttura del collo È lui che regola Questo traffico Che c'è a livello del collo Sapete che io il collo Lo interpreto sempre Come una via di passaggio Tra la testa e il tronco E quando io dico via di passaggio È che in realtà Effettivamente c'è un grosso traffico Che avviene lì E lo so io i dei E praticamente Il semaforo che fa Adesso passi tu Adesso passa l'altro E che costantemente Quindi va a regolare Questo meccanismo Che è anche il meccanismo Che oltretutto Utilizziamo Nella parola Perché lo so io i dei È anche quello Che mi permette Di far muovere Le corde vocali E quindi oltre che di traffico Una grossa zona Una zona estremamente importante A livello di espressività Perché è l'espressione Di tutto quello che sta sopra I nostri pensieri Qua ritrovate la cartilagine Che quindi ricopre Questa parte qua Della trachea E della tiroide Il nostro orsoioidei Allora vedete Non so se riuscite a vederle Tutti questi filini arancioni Che sono tutte Delle linee di forze Di muscoli Perché ovviamente Oltre al nostro Grosso muscolo Della lingua All'interno della bocca Abbiamo tanti piccoli muscoli Che ci permettono Anche la mobilità Della mandibola stessa E la mobilità Dello soioideo Perché noi possiamo Ingoiare Perché questo è immobile Possiamo parlare Perché questo è immobile E la sua mobilità Che è molto particolare Appunto nell'essere umano Sapete che noi Per parlare In rapporto A una trachea Di una scimmia Che può esprimere Solo dei suoni Noi per poter parlare Abbiamo fatto scendere L'ossoioidei L'ossoioidei È molto più alto E non permette quindi Questa specializzazione Delle parole Allora Il nostro ossoioidei È attaccato Con tanti piccoli muscoli Quindi sia Al nostro cranio Sia all'interno Diciamo Tra virgolette Qua della volta Del nostro palato Sia nel cranio Quindi anteriormente Il cranio posteriormente Sia davanti Sulla nostra mandibola Lateralmente Quindi tutto Questo spazio qua Ossoioidei Tutti i muscoli qua Lateralmente Sulla nostra mandibola E quindi Questi sono tutti Muscoli chiamati Sopra Io ideo Non serve conoscere i nomi Serve semplicemente Capire che ci sono Vi devo far vedere Dove si è appollaiato Per dormire In mezzo Proprio abbracciato Troppo le zampine Proprio abbracciato Sulla colonna E questo è il bello Almeno una cosa bella La troviamo Dai E i muscoli sotto Io ideo Che anche lì Sono tantissimi Che permettono Quindi Anche lì La mobilità Del nostro io ideo Perché deve poter salire E scendere Quindi Ci sono quelli sopra Che le fanno salire E quelli sotto Che lo fanno Permettono Di farlo scendere Ok E Che anche questi Quindi alcuni Attaccati Sempre lì sul cranio Qua Ritrovate I scaleni Quindi che si attaccano Sulle vertebre Vanno a finire Sulle costole E alcuni Anche di questo muscolo Di questi muscoli io idei Va a finire Sulla scapola Come finiscono Alcuni Sulle costole Sulle clavicole Sullo sterno Quindi Qua abbiamo Una fitta rete Che è dal muscolo io idei E dalla cartilagine Della tiroide Vanno A permettere A mantenere La mobilità E a mantenere Quindi il corretto Scorrimento Di tutto quello Che avviene qua Prima vi dicevo Tra aria e cibo Ma c'è anche Lo scorrimento Circolatorio Sanguigno Estremamente importante Vedete questi fori Qua Non so se li vedete bene E dove passano I grossi Vasi sanguigni Che vanno Verso il cervello E tutto questo Questo piccolo Spazio qua Ridotto Allora qua C'è un taglio Dal vero Vabbè Non ci interessa Più di tanto Le vertebre cervicali Dietro le vertebre cervicali Il bulbo Cefalo Rachideo Dove abbiamo Anche il centro respiratorio E che diventa poi Midollo Spinale La nostra grossa lingua Vedete tutto lo spazio Che occupa Con l'osso Ioideo L'inizio qua Dell'esorfago E davanti Della trachea La piccola cavità buccale Della bocca Scusate Allora Quando vedete Che vi sembra grande In realtà Vedete quanto È alta La nostra bocca Ma quasi tutta Occupata Dalla lingua Ok Vado Ecco qua Quindi Che cosa succede Su questo spazio qua Allora Ovviamente Quando io Sono arrotolata Su me stessa Questo spazio qua Sotto la mandibola E questo spazio qua Anteriore del collo Che cosa gli succede? Tende a A raccocciarsi A chiudersi Come vediamo qua Su questo disegno Dove quindi Le grosse frecce Quindi Dove troviamo questa A figurare L'esorfago Se io ispiro fortemente Questa freccia Dell'esorfago Mi Tira in giù Tutta la struttura Quindi Dello soioideo E fino in alto Dove si attacca Qua sul cranio Me lo schiaccia In giù Questa Grossa freccia Azzura E quella Quindi Della sacca Indotoracica Cioè dove c'è La trachea E i grossi Vasi sanguigni E il cuore Che anche questi Sono eccessivamente Tirati in giù E che quindi Mi farà scendere Eccessivamente L'ossoioideo E tutto quello Che è collegato Oltre alla discesa Qua Dello sterno Che a sua volta Perché Vi ho detto Questi muscoli qua Si attaccano Anche sullo sterno Se tutto scende in giù E' chiaro Che il mio Ossoioideo Tenderà A scendere In giù I muscoli Sopraioideo Che cosa faranno Sulla mandibola Andranno A Non mi guardate Perché Divento proprio Bruttissima Quindi Tutto questo Tira in giù E ovviamente Questi muscoli Sopraioideo Ci potete provare Perché Andranno A tirare In giù E Far Arretrare La mandibola Fate i vostri Muscoli Sopraioidei Che prendono Tutto qua Le raccocciate E vedete La vostra mandibola Che parte indietro E che si richiude Che scende Quindi Verso Lo soioideo Allora Quando fate questo Quello che mi interessa Che voi percepiate E la zona Di tensione Proprio su questo Spazio Trachea O soioideo Provate a farlo Arretrate Raccorciate E sentite La sensazione Di costruzione Di tensione La sensazione Di un qualcosa Quasi Che vi va a sforzare Allora E questo È il giorno Andrà a banda Quando io vado A chiudere Questo spazio E andare A fare questo Secondo voi Ci sta bene Ci piace Yoga è piacere Fare questo Non è assolutamente Piacevole Eppure Vedete persone Che vanno A fare Giandrà a banda In questo modo La chiusura Della gola In questo modo Ancora peggio Quando nelle posizioni Di yoga E andremo a vedere Perché questo accade Andate a vedere Che fanno Sto doppio mento Allora Voi siete tutti I miei allievi E ormai Fatevi vedere Che almeno Quelcuno Che vedo Vi siete tolti Molti Questo raccocciamento Qua E quindi Immaginate Questo Schiacciare Che interiormente Stavate sempre In condizione Di schiacciamento Di arretramento Di eccesso Di schiacciamento E di arretramento Dove A questo punto Liberando queste strutture A livello muscolare Interiormente Mi trovò Un senso Di allargamento Di apertura E di elevazione E di elevazione A forza di mettere la corona Ecco che ci è successo Ci è successo Il coronavirus Allora Quindi questa E nelle situazioni In cui Noi ci avvolgiamo Troppo In giù E in basso E vi troverete Delle persone Che sono Pietrificate In Questi profili Che non Perché sono grassi Ma perché La mandibola È arretrata È tirata in giù E non c'è più Assolutamente Quindi La linea Sotto La mandibola Diventa Un continuo E spesso Nelle posizioni Di yoga Ve lo fate No Non voi In altre scuole Ormai lo fanno Io vi caccio via Se lo fate Lo sapete bene Ma vedete Eh Dimmi Sì Sì Assolutamente Sì Allora Tieni conto Che il serramento Della mandibola Principalmente Avviene qua Dai massetteri Dico principalmente Perché ci sono Anche quelli All'interno Della bocca Sopraioide Che ovviamente Andranno Anche a giocare Questo ruolo Questi No Se dovete stringere Sono questi Che si associano A I scomm Quindi questi qua Lateralmente Non so se Sulla telecamera Si evidenzia Quando stringete Qua i denti Sentite che Mettete anche In tensione Perché Questa È una famiglia Sempre di muscoli Anteriori Ma laterali Stringere I denti Quindi spesso Va a prendere La lateralità Del collo Testa Stuttura Del tronco Ma Succede Che si associano Dove stringo I denti Quindi C'è questo E lo stesso Il suo movimento A retro A questo punto Sentite che Ovviamente Blocco tutto Tant'è vero che Non riescono Anche più Appunto A articolare Correttamente Le corde vocali A parlare Oltre Dovuto Sia Alla mancanza Di mobilità Dello Soioideo Che Della mobilità Della mandibola E molte Problematiche Delle corde vocali Nelle persone Che parlano Molto O a voce alta E io Qua vi parlo Come se Parlasse A 80 Persone Anche se Niente Parlo Con me stesso E con il gatto Però Per me Come si è senti Tutti lì davanti Quindi parlo Forte Lo stesso Le corde vocali Se non hanno più Una facile Mobilità Grazie alla Mobilità Dello Soioideo Alla fine Si usurano E le persone A un certo punto Non riescono Più a parlare Ma proprio In assoluto Non riescono Più a parlare Allora Questo è un atteggiamento Che ovviamente Noi dovremmo Cercare Di Evitare Di realizzare L'abbassamento Eccessivo Quindi Dell'osso Ioideo Andremo a vedere Come fare Questo sarebbe Quindi L'equilibrio Dove L'osso Ioideo Si trova Quindi Nella sua Giusta Posizione Di mobilità Perché E' un osso Che può Fare su e giù Quindi Non essere Fige Da una parte O Fige Dall'altra parte Deve poter Quindi Giocare Correttamente Un ruolo Tra i sottoioidei E i sottoioidei Questa è la scapola Questo è lo sterno Qua avete La cartilagine Dell'esofago Dell'esofago Della trachea Osoioidei Con i muscoli Quindi quelli Che vanno Sulla mandibola E quelli Che vanno Sul cranio All'interno Questo numero Dove Dette 4 All'interno Della bocca E più All'esterno Dietro All'orecchio Dove Arriva Anche Il vostro scon Quindi Questi qua Ma sono sempre più interno Il rapporto allo scon Che è quindi il giusto bilanciamento Che ci va A delimitare Quindi l'angolo Della mandibola Con l'angolo del collo Allora A volte Troverete Quando questa struttura È troppo tirata In giù E in avanti Troverete Questa che sporge E diventa Il famoso Quello che si chiama Pomo di Adamo Che diventa Estremamente sporgente Troppo in giù E troppo in avanti Eccesso Di tiraggio Quindi Dei muscoli Sotto Ioideo Allora Può essere lo sterno Che tira troppo Questi muscoli Per esempio Può essere la scapola Che tira troppo Una scapola Troppo tirata indietro Andrà a tirarmi Troppo in giù Lo so Ioideo Quindi dobbiamo capire Un pochino più L'ampiezza Ovviamente Quando noi vediamo Una problematica Ma Ok Vado Cominciamo a vedere A livello generale Questo raccocciamento Anteriore Che cosa provoca Sulla testa Sullo sguardo Sulle vertebre Cervicali Quindi Un raccocciamento Anteriore Dove potremmo avere I retti Addominali I nostri Pettorali Che chiudono Questa parte qua Del mio torace I muscoli Qua davanti Del collo Che cosa Vanno a fare A livello Delle mie vertebre Cervicali Allora Uguale A quello che Noi abbiamo Verificato A livello Della colonna Lombare Vi ricordate Che cosa hanno fatto Le vertebre lombari Andavano indietro In basso E così E così Quando noi abbiamo Il raccocciamento Qua Del collo Che cosa fanno Le vertebre Cervicali Vanno Incifosi In basso Allora Quando noi pensiamo Che spesso Questo atteggiamento Di rientrare Il mento Proprio quello Anche Spesso si chiede Di far Rientra il mento Per andare A interagire Dicono Sull'allungamento Delle vertebre Cervicali In realtà Questo rientrare Il mento Non farà Altro Che Si Tra virgolette Radrizzare Le vertebre Cervicali Ma radrizzarli In una situazione Assolutamente Antifisiologica Perché addirittura Diventa Una cifosi Quindi Magari Fosse verticalizzazione Ma Il fatto è Che Tirando Verso il basso La colonna Cervicale Non riesce A mettersi In verticalizzazione Ma Perché Ha poco spazio E quindi Si schiaccia In cifosi Arretrando È chiaro? Per essere Verticalizzata La Laudosi Cervicale Deve poter Avere Tra virgolette Spazio Cioè Quindi È nell'elevazione Che si va In verticalizzazione Se io Qua davanti Sì Davanti Qua La mia gola Va A Tirare Qua Mi riduce Lo spazio Allora Riducendo Lo spazio Che cosa Succede Alle vertebre Cervicali Che Praticamente Si schiacciano Andando Andando Non so Se avete Bene Sulla Telecamera Partendo Quindi In cifosi Quello Che vedete Qua Su questo Disegno Ci siamo? Allora Provate a sentirlo Su di voi Tanto Se lo sentite Per qualche Secondo Non morirete Tranquillo Quindi Che cosa Faccio Vado A Schiacciare A retrare E sentite Come Proprio Posteriormente Nel vostro Collo Si va Tra virgolette Percezione Verticalizzarsi Ma sentite Che si crea Tutta Una zona Di compressione Compreso Qua A livello Anche Dell'alto Del dorso Che andrà A creare La Bozza Di bisonte O Un inizio Perché ci saranno Altre tipologie Che andranno A crearlo Ok Allora Questo abbiamo Visto Allora Ovviamente Lo sguardo Va verso Il basso Quando io Sono arrotolata Così Il mio Sguardo Va verso Il basso Quindi In tensione A livello Oculare Perché Devo Poter Sollevare Lo sguardo All'orizzontale Ed è Anche Questo Vi ricordo Che La struttura Del collo Ha anche Il ruolo Di Costantemente In rapporto Alla verticalità Poter Mantenere Il mio Sguardo All'orizzontale Anche se Inclinata Sul lato Questi tirano Per tentare Di rimettere La testa dritta Cioè Lo sguardo Dritto Non La struttura Cervicale E questo È il fatto La struttura Cervicale Le vertebre Cercano Di adattarsi In quel Poco spazio Che le rimane E in realtà Quindi Questo schiacciamento Avverrà Tirandomi Sempre più Non so se Riesco a farvelo Vedere Quindi Io sono Chiusa qua Il mio Sguardo Va in basso E quindi Che cosa Devo fare Per vedere Devo ovviamente Sollevare gli occhi Allora Siccome ovviamente Gli occhi Fanno fatica Che cosa Vado a fare Al retro Un po' Di più Ancora di più La mia Mandibola Portando ancora più In Cifosi Cervicale In modo tale Da Ricuperare qualcosa Del mio sguardo Per evitare Di lasciarlo a terra Vado a fare questo A terra Rientro il mento Il mio sguardo Ritorna un po' più All'orizzontale Ci avete provato? Vi ci lascio provare E' importante E' importante Anche capire questo Perché c'è Molta male Interpretazione A livello Percettivo Che quando Io Rientro il mento Aiuto la colonna Cervicale A ridrizzarsi No 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 E no La schiaccio In Cifosi Schiaccio In Cifosi E li faccio Molto male Succede Succede Anche Tipo Quando Andiamo a fare Il gianandara Banda Perché Quando io Vado a fare Questo Quindi Così Gianandara Banda Non solo Quindi raccoccio Questo spazio Qua Sotto il mento Trachea E abbiamo Già percepito Quanto Deva fastidio Ma Io Fado a fare Questo Pensando Di allungare Il collo In realtà Non lo sto Allungando Sto flettendo La mia testa Su un collo In Cifosi E schiacciato Compresso Verso Il basso Allora Domande Difficile Ci vuole tempo Per ingoiare E poi Ti cominciare A digerire E lo so Allora Sì 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 Certamente Sì Adesso Lo andiamo A vedere Andiamo A vedere Questa combinazione Sto girando Per vederti Ma non ti trovo Andremo A vedere Questa combinazione Adesso Appunto Dove ci sono Questi Altri elementi Che subentrano Ovviamente Andando A far Peggiorare Degenerare Ancora di più La situazione Ok Vado Vado Sì Chi tu Ah io Ah ok No perché siccome io vedo solo i tuoi capelli Dice come faccio Sei tu Francesca No Allora cerco di inquadrarmi abbastanza Su La webcam Allora Gianna Dara Banda Quindi Che cosa andiamo a fare Andiamo Allora dobbiamo evitare di raccorciare qua Ok Allora ovviamente io ho una serie di sequenze Che Poi dopo ne parliamo Che andremo a fare Per cercare di capire No Di mettere in applicazione E vedere come respirare nel diaframma Però intanto oggi volevo presentarvi gli aspetti Teoricci In modo tale che Poi dopo Quando ci rivediamo E sarà tramite web Purtroppo Potremmo andare direttamente sulla pratica Allora In pratica Quindi io devo evitare di raccorciare qua E di tirare qua in giù D'accordo Tutti E quindi Però allo stesso momento Devo flettere la mia testa Perché vado a portare il mento Verso il torace Allora vedete già immediatamente Che cosa Che l'intenzione Che io vado a mettere in questo gesto Io giro sempre un po' la testa Per vedere se Rientro nella webcam Allora L'intenzione che io metto Anche se Devo andare a portare giù qua il mio mento Parto Elevando Allora Elevando la mia testa Elevando Il L'osso ioideo Lasciando quindi vedete Spero L'angolo quindi qua del mio mento Formato E vedete che io vado E quindi vuol dire che la colonna cervicale Quando io vado a fare questo È chiaro che da Naturale L'ordosi Va in verticalizzazione Ma in verticalizzazione Decomprimendo Perché Parto Verso l'alto Con il mio cranio Ok Fino qua Allora E l'inizio quindi del movimento È estremamente importante Non devo pensare Vado in giù Tenendo quindi tutto Compresso Ma devo pensare Vado in giù Elevando Decomprimendo Mantenendo qua l'angolo A questo punto Mi basta semplicemente Andare A flettere Quindi Il mio mento E vedete che io Continuo a parlare normale Proprio perché Non ho Ristretto E compresso E raccocciato Lo spazio Tra che ha Osso ioideo Vado E Vado qua Posso continuare a parlare normale Per bloccare il respiro A questo punto Chiudo La grotide Posso è meglio Se mi giro di là Perché Così sono più Illuminata Che la finestra E di là Ok Forse qua È più illuminata Ok Quindi Sollevo Allungando Verso l'alto E lì Tenendo sollevato E posso Parlare Perché non ho Compressione Su questo spazio Il Sì 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 Esatto Ud Te lo dice Proprio la parola Ud Perché Questo lo devo Elevare Allora L'Ujai Ovviamente Ha un significato Di elevazione Però Sapete che per me Non c'è Differenza Tra L'interiorità E il sostegno Il supporto Grosolano Dell'azione Della vita Del corpo Che non è la forma Che interessa Ma è la mobilità Che io riesco Ad avere in quella forma E questo è anche Un altro principio Assolutamente fondamentale Come l'asana Non è la forma Che assumo Ma la mobilità Che ho all'interno Di quella forma Allora Nell'Ujai Ud Ud Vuol dire Elevare Vado a elevare Se faccio Ujai E l'inverso Schiaccio Pietrifico Ujai Arrivato il coronavirus Più o meno La precisione Il respiro E quello Allora Anche lì Assolutamente L'intenzione Questo spazio Nell'Ujai E Non è Restringere Ma Restringere Verso l'alto Gialandara Banda Semplice Semplice Basta avere Diciamo La Giusta Conoscenza Per indirizzare Poi la pratica Correttamente Che se faccio Quello non è Ujai Se provate la differenza Adesso comincerete A capirlo Fanno Tutte e due Il rumore Per uno Schiaccia L'altro Ud Ud Vuol dire Andare Elevare Sì Certo Certo Perché La nozione Dell'Ujai Quindi Io direi Indipendentemente Anche da L'Ujai Ma dove Nell'Ujai Nella tua Respirazione Metti proprio L'intenzione Dell'elevazione Perché Nello yoga Ovviamente Sennò sarebbe Solo Inspiro Punto e Bassa Ed espiro Nella respirazione Metti anche Un'intenzione All'elevazione Tutta Tutta la struttura Tutta la struttura Elevatoria Che si deve Esprimere Più Intensamente Nell' Inspirazione Perché io In rapporto a cosa Mi vado a elevare Nello yoga E nell'esprimere Nel realizzare L'Ujai Mi vado a elevare In rapporto Al condizionamento Della natura In rapporto Fisicamente Parlando Al condizionamento Della forza Di gravità E questo Lo esprimo Quel potenziale Soprattutto Nella fase Inspiratoria Nella fase Espiratoria Dove c'è anche L'Ujai Continuo Ad esprimere Quindi Un ritorno Verso La natura Ma non con Lo schiacciamento Dei principi Filosofici Cioè io Appartengo Comunque Alla natura Ho bisogno Della natura Ma nell'Ujai Esprimo L'essere Erore E quindi Dove Sono comunque In rapporto Alla terra Ma Un qualcosa Di più Elevato Che Vi dicevo Quindi Nell'ispirazione Diventa più Intensa Arrivare Le tue scapole Però Per me È sempre Importante Partire Da un principio Filosofico E quindi Di interiorità Per capire Cosa accade Nel corpo Io solo Quell'immagine Così Rimane arida E sterile Se poi Interiormente Non c'è niente Io posturale Partito Dall'interiorità Poi dopo Ho studiato L'immagine Anatomica Anatomica Tra virgolette E quindi Io interiormente Nel Ujai Mi voglio Elevare Dove Devo fare Uno sforzo Più importante Nell'ispirazione Perché Mi devo Svincolare Quindi Dalla forza Della terra Che schiaccia In basso E dove Nell'ispiro Quindi Devo mettere Più forza Allora Questa forza Allora L'elevazione La esprimo Per primo Dall'elevazione Del mio cranio Dove A suo seguito Partirà Quindi L'elevazione Dello so Ioideon Perché È attorno Al suo perno Che gioca La mobilità Appoggio Del mio cranio Sulle vertebre Cervicali Quindi Vado a salire Col mio cranio E Salgo Quindi In questo punto Qua Del fondo Della mia bocca E questo Mi innesca La potenza Inspiratoria Del mio diaframma Come abbiamo visto Tutta la reazione A cascata Che abbiamo visto Nel weekend Che appunto Abbiamo fatto a Milano Che mi permetterà Quindi Fisicamente Anche volendo Ma non solo Ma interiormente Di sentire Che Proprio a partire Da quest'azione La leggerezza Dell'elevazione Ma E dove A livello fisico Ci sarà Non solo Il nostro diaframma E metto le mani Dietro Perché il diaframma È da dietro Che solleva Tutto l'insieme Della baracca Ma Ti ricordi Che abbiamo visto Anche Delle strutture Delle strutture Inspiratorie Qua in alto Dove Dalla scapola Alle vertebre Cervicali Al cranio Abbiamo Chi mi dice Cosa abbiamo Lì dietro Elevator La scapola Poi Abbiamo Un po' Di romboidi Quindi Elevatore Della scapola Da questa punta Qua Della nostra scapola Ok Eccola qua Da questa punta Qua Della scapola Facile anche Questo da trovare Perché Può essere Un Punto Molto Infiammato A volte Sembra che ci sia Un chiodo L'elevatore Della scapola Che quindi Va a attaccarsi Sulle vertebre Cervicali E che fungono Anche loro Di forza All'elevazione A partire Dal momento In cui La mia testa Si va Però a elevare Quindi Una forza Qua I romboidi Che Anzi Devo usare Questa mano Che dall'alto Anche lì Della scapola Va su queste prime Vertebre Dorsali Quindi anche Loro Questa forza Che mi vanno Quindi A Sollevare La parte Posteriore Del torace Quindi C'è anche Questa forza Posteriore Che è Nella La potenza Ispiratoria Sento Qua In alto Una parte Superiore Del mio Dorsso E tra le Mie scapole E levo Allora Mi sembra Che abbiamo Anca Un disegno Da vedere Poi dopo Ci manderemo Bessini Il caso Che diceva Paola Dove Avremo Due Elementi Insieme Allora Rimetto il caso Di prima Così vedete La colonna Cervicale Qua che cosa fa In cifosi Ok In questo caso Cosa fa La colonna Cervicale Iperlordosi Dove In tutti e due Casi Avremo Un raccrociamento Qua davanti Questo che cosa Di fatti Va a significare Che Questo raccrociamento Qua anteriore Non Non mi dà Spazio Alla colonna Cervicale Perché a Secondo Poi dopo Le andiamo A vedere A secondo Dell'interazione Con gli altri Muscoli O Mi partirà Perché Avendo poco Spazio Si piega Tra le Guardate All'indietro O Avendo poco Spazio Si andrà A piegare In avanti Perché Questo raccrociamento Qua davanti Significa Che la colonna Lombare Cervicale Ha Poco Spazio E quindi Si deve Deformare O indietro O in avanti Non si può Allungare E quindi Quando io faccio Abbasso il mento Arretto il mento Riduco lo spazio Alle vertebre Cervicali O in modo O nell'altro A secondo Di quale posizione Stavo facendo Allora Il confronto Di queste due Immagine Ci permette Di capire bene Questo concetto E quindi Nero yoga Questo Non sto Allungando Le vertebre Cervicali Cancellatelo Buttatelo Definitivamente Perché credo Che Adesso L'avete capito È chiaro Questo per tutti Rimetto L'immagine Raccorciamento Dello spazio In quel caso La mia colonna È schiacciata Si deforma indietro Avendo poco spazio Si fa Piccola Piegandosi indietro Mentre in questa situazione Poco spazio Perché sono Raccorciata Qua È raccocciata In iper Ecco qua Mi ci sono messa Di profilo Lo volete vedere Allora Ma cercate anche voi Di provarlo Quindi In realtà In questa situazione Questo raccocciamento Qua anteriore È quello Che tendenzialmente Andate a fare Quando praticate Delle flessioni All'indietro Quindi Quando per esempio Fate Il cobra Quando si dico fate Voi non siete bravissimi Ma quando andate a fare qualcosa Dove dietro Il vostro collo Si Tra virgolette Raccorcia E La colonna cervicale Va in eperludosi Voi sapete che Non li fa bene E quindi Che cosa fate Che Fate questo Ok E ci ritroviamo Quindi esattamente Come è descritto Su questo disegno Però adesso Non ho più L'iperlordosi Ma per niente L'iperlordosi Rimane Solo che Perché rimane Schiacciata Solo che Posteriormente Avete l'impressione Che qualcosa Avete riallungato Non avete Rialungato Niente Avete Ulteriormente Ruotato Schiacciando Completamente Quindi Questo spazio Del collo E quindi Questo Lo ritroveremo A partire Da posizione Spesso Fate Posizione Di flessione All'indietro Ma quando Questa situazione La ritrovate Quindi Pietrificate Su delle strutture Posturali Quindi Non su delle Posizioni Di yoga E lì Ritroveremo Veramente Anche in questo Caso Una bozza Di bisonte Ancora più Accentuata Vedete Questa frattura Proprio Tra le L'eccesso Di lordosi Cervicale E Ci sarà Un eccesso Anche Di cifosi Dorsali Quindi Quando ritrovate Queste grosse Deformazioni Delle colonne Che quando Vanno a fare Il cobra Queste tipologie Peggiorano Ancora di più Ce le faccio Fare Perché Molto In cifosi Quale Vedete Che le fanno Cifosi Dorsali Si accentuano Ancora di più E L'iterlordosi Cervicale Si accentuano Ancora di più Non so se L'avete già visto Su alcuni Di questi allievi Messi un po' Maluccio Ma ad ogni modo Quando fate Le flessioni All'indietro Andare Quindi Su questa situazione Cercare di Facendo così Così Almeno Non Non accentro La lordosi Cervicale No No E' meglio Lasciare La lordosi Cervicale Almeno Decompressa Considerando Infatti Se mettete Il collo Così Tutto sommato Non state male Se da lì Andate a fare questo Sentite Ovviamente Un fastidio enorme A cominciare Da questo punto Dove il cranio Spigia Sulle Per perdere Cervicale Cioè Quindi Tutto questo Spazio qua Dietro In fondo Alla bocca Siete Tutti D'accordo Su quello Allora Eccolo qua Visto Questa Situazione Questa Situazione Ancora Un'ulteriore Situazione Allora Io Questa L'avevo messo Perché La vedevo Molto Significativa Vedere Un po' Tutto L'insieme Più dal vero No Quindi Della forma Delle vertebre Cervicali Poi Le ritroverete Ovviamente Anche sulle vostre Immagini La Catilangine Che protegge Quindi La nostra Trachea La nostra Clavicola Qua Che ritrovate Se vedo Bene Allora L'angolazione Della Mandibola In rapporto Anche qua Allo Soioideo Questa è la mano Non so perché L'hanno fatto Sollevare la mano Non so Vabbè Allora Veniamo a questo disegno Qua c'è Un'altra Quindi Schiacciamento Della colonna Cervicale Che può sempre dare La bozza di bisonte Come Fanno a vedere Qua sul profilo Quindi Sempre su Un arrotolamento Quindi del tronco Dove Quindi Avremo Una Sempre Una lordosi Cervicale Esagerata Quindi Non è Come nel caso Dove abbiamo visto Il primo caso Dove sono Tutto arrotolato Quindi Come faremo Noi nelle posizioni Di yoga In flessione Tutto arrotolato Ben distribuito La prossima volta Andremo In parte pratica Lo voglio fare Vedere come Attivare correttamente La respirazione In quel caso Ma troverete Quindi dei casi Pietrificati Di collo Di mandibola Quindi raccorciata E dove Avremo Quindi In questo caso Che cosa succede Quindi Sono tutta arrotolata Ma ho Metto Quindi I miei scaleni E anche I sternocleidomastroidei Quindi sono Arrotolata Questi Che sono Raccorciati E quindi Mi vanno A Tirare Tra le bollette In giù Il mio collo Obbligando Quindi Lo sguardo A Raddrizzarsi A partire Dall'arrattriamento Dalla mandibola Credo che sia La più sconfortevole Scomoda Di tutte Le Di tutti Gli atteggiamenti Di Arretramento Il doppio mento Della mandibola Dove anche I sconfortevole Tirano Andatevi respiro Poi ci riprovate Tiro in giù Tiro indietro La mandibola E ci metto anche I sconforte Scaleni Che tirano Il cranio E le vertebre Cervicali In avanti Ci avete provato Fate poi Un massaggino Mandate i bacini Perché Veramente Assolutamente Sgradevole E scomodo Ed è anche Quindi qua Se andate a sentire La vostra Bozza di bisonte Qua Che viene Anche in questo caso In fuori Allora Quando il mio tronco È arrotolato E si Ok È orientato In basso Quindi a livello Del collo Andrò a mettere Questo Per esempio Per cercare Di risolevarlo Ok Oppure andrò Dietro Ma Mi troverò Sempre Su Una situazione Di eccesso Di schiacciamento Verso il basso Oppure Andrò A fare questo Per cercare Di risolevare Ma sempre Su una situazione Di schiacciamento Verso il basso Qua Quanto mi fate Tenerezza Quando mi fate Scusa No 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 va bene Perché Perché Non vedendovi Ovviamente Mi mette in alerta Che qualcuno Sta parlando Dimmi Ah no 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 Non ne ho parlato Perché il bacino Diciamo Questa struttura Anteriore Sul bacino Andiamo a Vedere In un prossimo Incontro Perché Si ricollega Al perineo Il periforme Perché è attaccato Sull'osso sacro Sulle anche E può essere considerato E sigilla Diciamo La parte posteriore Del bacino E a tutti E a tutti gli effetti Può essere considerato Come un complementare Del perineo E il Periforme Noi l'abbiamo visto Vabbè l'anno scorso In rapporto All'extrarotazione Del femore In realtà È un muscolo Molto importante Perché è un muscolo Relè tra La catena delle gambe Che è quindi Diciamo Una struttura Della lateralità E l'osso sacro Perché si attacca Sull'osso sacro Che invece appartiene Alla struttura Della verticalità E quindi Dove il periforme Può giocare un ruolo O in rapporto Al femore Quindi alla lateralità Creando Extrarotazione Del femore O potrà Andare a giocare In rapporto All'osso sacro E quindi Diventare Un Tra virgolette Stabilizzatore Della verticalità Dell'osso sacro E in quel punto In quel caso Interagisce Invece Su questa struttura Di anteriorità Che portandomi L'osso sacro A stabilizzarsi Verso il basso Appartiene In quel caso Il periforme Appartiene quindi A questa struttura Della terra Allora Forse non mi sono Spiegata bene Per tutti gli addetti Per chi sta Un po' Nel discorso Chi sta nel discorso Riesce a capirlo Il periforme Così Per chi non Lo conosce Il mio femore Che è attaccato qua Il periforme Quindi Si sto davanti Prende qua L'osso sacro E si attacca qua Sul femore E quindi Può giocare Contraendosi il ruolo Di Extra rotatore Del femore Non so se vedete bene O potrà giocare O potrà giocare il ruolo Di Abbassatore Si dice Fa abbassare Il mio osso sacro Verso terra Ok Stando qua Quindi Diventa appunto Mobile L'osso sacro Facendolo Scendere E facendoli fare Quindi Questo lavoro Ok Oppure andrà a agire Sul femore Oppure su tutte e due Come andremo a vedere Sempre il rapporto Alla notazione Contra notazione Allora Penso che Ok Abbiamo Visto Tutto E Domande Sì Sì Allora L'osso sacro In caso Di perlodosi Poi dopo Ovviamente Ci sono Allora Diciamo che L'osso sacro Può diventare Orizzontale Per vari motivi Ok Può essere Orizzontale L'osso sacro Metto così Riesco a appoggiare A avere la mano libera Su Una struttura lombare Comunque Verticale Quindi Non è Un fattore Dove La lordosi Può Diciamo Si ricollega All'orizzontalità Dell'osso sacro Perché l'osso sacro Può essere Orizzontale E la colonna Lombare Verticalizzata Ma È anche vero Che Un'iperlordosi Invece Lombare Potrà Portarmi L'osso sacro A diventare Orizzontale Questo è vero Ma un osso sacro Orizzontale Non sempre si accompagna Da iperlordosi Lombare Quindi se Questa Era la tua domanda Se c'è un seguito No Assolutamente No no Guarda Ci sono Troppe Combinazioni Difatti Questo fa sì Che noi A livello Posturale Siamo tutti Assolutamente Diversi Uno dall'altro Quindi ci sono Tantissime Combinazioni E noi Vabbè Ti ripeto Man mano Nel posturale Cerchiamo di vedere Tra le lette Delle tipologie Pure Però dove qua Sul collo Vi ho già Fatto vedere Diciamo Come Una tipologia Quindi di arrotolamento In avanti Sul collo Mi potrebbe portare O cifosi O iperlodosi Quindi Già questo ovviamente In parte Rispondo ovviamente Alla tua domanda Che le cose Non sono così Appunto Evidente E dove Poi ovviamente Io potrei trovare Iperlodosi O cifosi A livello cervicale Su una struttura Del tronco Totalmente diversa È vero Che io potrei Su un osso Sacro Orizzontale Trovare È molto Un caso Molto diffuso Un iperlodosi Cervicale Questo assolutamente Solitamente Si accompagnano Molto bene insieme Molto bene È un eccesso Di struttura Posteriore Che porta A questa orizzontalità Dell'osso Sacro E a livello Come logica Come logica Diciamo di destrutturazione Canta siete carini No mi piace Allora Poi Io cominciavo Di problemi in famiglia Che vogliono Che vogliono il pranzo Anche perché Roberto continua Questo pomeriggio Su naturopatia Quindi chi vuole Seguire Ormai sapete Che noi Siamo diventati Elastici In tutti i modi Perché Dobbiamo essere Elastici In questo periodo Grazie Vedo qualcuno Che applaude Adesso sto girando Un po' tutti Così vi vedo Ehi Quindi Adesso Tenetevi informati Noi prepariamo Un calendario Dove io In teoria Allora E' chiaro Che dobbiamo Modificare un po' Le nostre abitudini Noi di solito Quando ci vediamo Nelle città Ci vediamo Tutto il giorno Giustamente Qualcuno mi ha fatto notare Però io Tutto il giorno A casa Non mi lasciano in pace Allora La mia idea Era più frazionare Fare Dei tempi più brevi In modo tale Che 3-4 ore Ve lo lasciano Senza che qualcuno Vi venga a rompere Perché capisco Che addirittura Un weekend Diventa quasi impossibile Che ve lo lasciano libero Quindi Io ho piacere Se potete seguire Perché giustamente Poi potete Vedere Quello che avete capito Fare delle domande Se necessario Anche sulla pratica Allora Adesso Stiamo studiando Appunto Un calendario Che dobbiamo Allora Sia per yoga posturale Di Milano Vi ho detto Probabilmente Il nostro incontro Di maggio Salta Io spero In quello di giugno E quindi vorrei Assolutamente Mantenere la continuità Poi Dopo vediamo Quello che servirà Recuperare Di quello che non ci è stato Diciamo Fatto Chiaro Se ci serve Mettere qualcosa Il discorso Il discorso Ma il discorso Assolutamente Quello La databilità A quello che ci viene Imposto Per yoga Idem L'incontro di aprile Di maggio Sicuramente saltano Saltano Ma noi vogliamo Continuare a farli Cioè non le vogliamo Perdere E vogliamo farli In webinar Poi anche lì Se serve Recuperare qualcosa Ma non è detto Che riusciamo A recuperarle E questo è il concetto Il discorso Che dobbiamo Avere bene in mente Che non è bello E noi Man mano Che ci si sono Chiariti Queste prospettive Che possono essere Abbastanza Purtroppo vere Anche vedere Se riusciamo A fare gli estivi Mettiamoci l'anima In pace E troviamo L'adattabilità L'elasticità Per capire Questo discorso E quindi Vogliamo continuare Il nostro moto Delle for Chi si forma Non si ferma E cerchiamo Di metterlo In applicazione Il meglio possibile Allora Prepareremo Un programma Sia per yoga Kundalini Sia per yoga Posturale In base Alle vostre esigenze E tutto quello Che potremmo fare In seguito Per noi Sarà veramente Un piacere enorme Io non vedo l'ora Proprio di rivedervi Direttamente Ma accontentiamoci Di quello E qualunque Suggerimento Noi siamo qua Per capire Come continuano A procedere In questo modo Va bene Qualcuno vuole Aggiungere qualcosa Dumi Carruccia Piccina Anche tu Hai smesso Di lavorare Ovviamente Ciao ragazzi Ciao a tutti È arrivato pure il gatto Uno dei gatti A salutare Perché l'altro Non lo vedrete mai Un abbraccio enorme 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 E molto Molto presto Molto presto Molto presto Allora Ad ogni modo So che qualcuno Lavora Voi preferite Comunque la domenica Perché io sono libera Meglio per tutti Un bacio A tutti E quando volete Ormai avete scoperto Zoom Allora Adesso va bene Chi vuole andare Avete capito Quindi Zoom Avete anche L'applicazione gratuita Che dura Quanto A 5 minuti Quindi Chi ci Si voleva Fare un saluto Vi preparate Una lista Mandate Chi si collega Si fa un saluto Qualche minuto Sentire Come facciamo Nelle lezioni Come stai Ed eccetera Che fai Che vogliamo fare E così via Perché credo Che non possiamo Appunto Rimanere isolati Ma la tecnologia Ci permette Quello Facciamolo Usiamo Questa tecnologia Va bene Quindi ce l'avete Gratuito Ognuno Si può fare La sua piattaforma E contattare Chi vuole Per un po' Per qualche minuto Lo permettono Gli altri Sono pagamenti Per poter Ovviamente Durare di più Va bene Felice Felice Per un po' Per un po' Per un po' Grazie a tutti.